Davide Bernarello, nello stand dell'Arri una delle novità è il nuovo Skypanel 120, continuazione di una gamma che ha avuto davvero un grande successo a livello mondiale. Sì esattamente, in meno di un anno sono stati venduti 14.000 pezzi in Skypanel tra la serie S30 e S60, quindi abbiamo deciso di allargare la famiglia e di introdurre questo nuovo gioiellino che è lo Skypanel da 120, esattamente il doppio dello Skypanel 60 come dimensioni, anche se mantiene la stessa potenza, i LED sono distribuiti lungo tutta la lunghezza dell'illuminatore. Il 120 sta per la lunghezza massima del pannello? Esattamente. Entriamo nelle caratteristiche del prodotto? Allora, le caratteristiche sono esattamente le stesse della famiglia Skypanel, quindi anche per questo modello c'è controllo della temperatura colore da 2800 gradi Kelvin a 10.000 gradi Kelvin, abbiamo la possibilità di regolazione del plus minus green, la possibilità di lavorare in high saturation intensity e quindi di gestire tutta una gamma di colori. Il nuovo firmware di quest'anno ci dà la possibilità anche di avere quasi 700 tipi di gelatine diverse già preprogrammate all'interno della macchina, richiamabili dal pannellino o da una posizione remota, per cui noi possiamo scegliere il brand delle gelatine, possiamo scegliere il tipo di gelatina che vogliamo e richiamarla proprio con numerazione e descrizione, come avere in mano una campionatura di gelatine, è fantastico. E con questo è tutto qui dallo stand della Harry, Davide Bernarella, Antonio Franco, dall'ABC di Amsterdam per millecanali.it Grazie a tutti.